FIFA 17 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 Crossi totti in mezzo Dove c'è Salah? E però check Non si fa fregare Desce subito Attenzione Pallone preso Da Rodriguez Ah come? Che fallo? Vai Salah Vai Salah Che non riesce mai a prenderlo Attenzione Attenzione Bruno Perez Attenzione che ce ne sono scappati via Martial Ripresa da Rodriguez Benissimo così Bruno Perez No Ho sbagliato Dovevo mandare in verticale Salah Non ci sono riuscito Va bene Va bene Maron Grande Bruno Perez Che oggi Difensivamente parlando Va benissimo Salah prova a partire da solo Con la sua velocità L'egiziano Mohamed Mohamed Salah Attenzione Attenzione Eh qui però Sono un po' bloccato Salah prova Eh ha provato a costruire una cosa Troppo difficile La ributtiamo in mezzo Ah Raga mi sono bloccato A un certo punto Perché nessuno andava Alla velocità di Salah Però attenzione Al controbiti di Eriksen Attenzione Con Salah Rodriguez Va vuoto Eh questo Sono i miei Arriva il gol E te pareva E Bardicepurga Così Raga Anche ieri Ho giocato delle partite In questo modo La squadra Avversaria Non c'era Poi all'improvviso Fa un'azione E segna Va bene Accettiamolo Questa è FIFA Vediamo un po' Dai Dobbiamo riprenderla Subito Vai Salah Subito Salah Subito Mamma mia Subito Mamma mia Vai Salah Vai Salah Un po' di dribbling Lo facciamo in coglioni Vai Salah Mamma mia Mamma mia Attenzione Attenzione Terossi subito Mamma mia E la risposta di Jack Che c'è sempre Purtroppo Attenzione Totti la mette in mezzo Per Jack Che non so perché Me l'ha cambiato Non me l'ha fatto più selezionare Però va bene Dai Cazzo Cazzo Vai 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 Ebra Vai Ebra Non ti fa rubare la palla No vabbè No vabbè raga Non ci posso credere Non ci posso Allora raga Questo qui non ha fatto nulla Due azioni Due coli Io non ci posso credere Per niente E poi Ebra Si ha fatto agli palla Come non so nemmeno io E ancora che sa Ma magari Cadi dalla sopra Parti No per cattiveria Salah può partire da solo Salah può partire No non so cosa ho fatto Tipo mai Però sbaglio anch'io Eh C'è da dire che sbaglio anch'io molto Comunque Bruno Perez Per Salah Che prende in contro tempo Il difensore Salah 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 Oh Questo era brutto signori Questo era bruttissimo Questo fallo Raga c'è una brutta notizia Devo darvi Io i rigori Non li riesco tipo mai a battere Comunque c'è stata di che Questo è netto È netto Papo mamma mia Totti No vabbè Senza puntatore Facciamo i disonesti Fino a questo punto Raga Lo sbaglierò tipo tanto E invece no E signori Francesco Totti Segna rigore E andiamoci a riprendere la partita Per forza Devo a mente che avevo tantissima ansia Per il rigore L'abbiamo fatto E ripeto Possiamo riprenderla Salah Salah la va a riprendere Chiamano il fuorigioco Cosa che non c'è Salah la butta in mezzo Dove c'è il Sharawi Pensavo che faceva tipo Una rovesciata Roba più Acrobatica Però va bene E qui con Bruno Perez Non so che cazzo ha fatto Però ho tirato Non gli ho rubato la palla Totti Attenzione Dzeko Dzeko si gira Dzeko è indisturbato Dzeko Mamma mia raga Era molto difficile Segnare da lì però Dai l'importante è provarci Come sempre Attenzione Attenzione Può allargare Dzeko subito per Salah Che è da solo in questo momento Sulla fascia Salah Salah Attenzione Mamma mia Proprio raso raso La traversa L'importante ragazzi Che la squadra Ci sia in campo Almeno mentalmente Subito Attenzione Vale subito Segnare Attenzione Accressiva Oh Inchia Madonna Madonna Non rischiamo queste cose Drink water Feco lì Subito feco lì Appena entrato Corre Vai feco lì Mi piaci subito Mi piaci subito Eh però Per fortuna Ho preso la palla Sono vittima rosso Secondo me Attenzione Feco lì La prebutta dietro Dove c'è drink water Drink water Prova a far inserire feco lì Feco lì rientra Feco lì Che cazzo ho fatto Che cazzo ho fatto Raga Volevo passarla per Dzeko Vabbè Vediamo comunque di non perdere Ecco Come l'ho detto Raga Ho sprecato un'azione Brutalmente Potevo tirare con feco lì Sul secondo palo Però ho sbagliato Ho detto di essere campione Quindi gli errori ci stanno Attenzione Eccola Eccola Maroni Colibali Attenzione Ti prego non la far passare Ecco come l'ho detto Gol Easy vero Raga Io non capisco perché questi Come tirano tirano Segnano Anche se magari Tiravo io lì E sbagliavo brutalmente Ma raga Io non vi voglio accollare Su alcune scuse Però il fatto che Non me l'hanno fatto Curare la squadra Ok Sembra molto strano Da dire quello che ho detto Che non me la fa Recuperare la forma fisica E' stato da grande Di paziente Perché io volevo fare Curare la forma fisica Per giocare con i titolari Anche con Salah Però perdere Salah Vuol dire tanto E' verrà subito Per Escharawi Dobbiamo segnare subito Dobbiamo segnare subito Vai per Dzeko in mezzo Che cos'era Che cos'era Che cos'era Per Dzeko Che si gira Mamma mia Che tiro però eh Che tiro signori E rivediamo E rivediamo che vuole ripartire La squadra avversaria Grande con i balie Vabbè però Ragazzi qui si fanno Tutti i colegi ad ador Qua Attenzione Questo è il gol Perché Evra E' un morto In difesa Scusa sotto il insultato Ha preso la palla Stranamente Comunque Walcott Drink water Drink water Può allargare Per Escharawi Il Escharawi Vai Vai mamma mia Drink water Ancora che la controlla Drink water La mette per Dzeko Dzeko si gira Dzeko Boo Mamma mia Ragazzi l'azione c'era Boo E vabbè E vabbè ragazzi Comunque fatto sta Che è stata una partita Comunque divertente Oh oh Con i balivacci Con i balivacci Oh Gol Sto sicuro Mamma mia Il gatto in porta Che purtroppo Ho già preso 3 gol Il gatto E col sicuro Non vuol dire Quello della merda A porta vuota Vuol dire Gol da vicino Attenzione E il Escharawi E il Escharawi E il Escharawi E il Escharawi Intendevo questo gol qui Ragazzi mancano Due minuti di gioco Dobbiamo riuscire a fare un altro gol Cosa abbastanza Improponibile Di verità Però noi ci proviamo Il tempo È a nostra disposizione Speriamo che il recupero Sia abbastanza abbondante Tipo 3 minuti Dai 3 minuti ci stanno Secondo me Dimmi 3 cazze Cazze dammene 3 cazze 3 minuti di recupero E il Escharawi Eh però anche lui È distrutto Ragazzi Se è un bug Che dura tutta la giornata Il fatto che non posso curare La forma fisica È davvero messa male Colibali 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 Maronmi Maronmi Mamma mia Preso Molto regolare Questo intervento Attenzione E il Escharawi Che parte E fischia la fine Della partita Che purtroppo Non ci sta più tempo Però ragazzi Fatto sta Abbiamo perso Vero La squadra Nonostante era molto Stanga e combattuto Fino all'ultimo Quindi di questo Sono molto felice Mucio caliente Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto In tal caso ragazzi Che vogliate Ancora video di FIFA Dovete spolliciare E farmelo vedere Perché io non posso Credere così Forse vi piace Forse no Già so Che andrà male Tipo Manco 10 views In 20 ore Però ragazzi Spero che vi piaccia comunque Like Commento Condividete Ma soprattutto Ci becchiamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi